E non voglio che tutto offenda perché te l'ho già detto anche, mi piacerebbe un Anaï, un personal stylist, un qualcosa che lo prende, io non sono in grado, secondo me lui ha un potenziale estetico secondo me inespresso, cioè lui ha un lineamento perfetto, il naso, la mandibola, gli occhi, si tiene tonico perché a un certo punto l'ho preso su, Gianni? D'accordo perché si è identificato per altro, per i contenuti, la sua testa, evidentemente non gliene frega niente di quello che mette addosso, ma gli interessa molto quello che ha da dire e quello che ha da dare. Io gliel'ho chiesto ieri questo, ho detto probabilmente hai più voglia di essere visto dentro piuttosto che fuori, lui fa no per la verità sono anche un po' narciso, mi piace, ci tengo, ci guardo. Per quanto riguarda la mia forma fisica, la mia condizione fisica, ma per quanto riguarda gli abiti mi affido, mi affiderei tranquillamente, non è una cosa rilevante per me, non è l'abito. E sono d'accordo con te. Un abito di tutto di me. Grazie. 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 Grazie.